Sono stati i ragazzi della San Giovannese ad aggiudicarsi dopo una lunga serie di partiti e il primo torneo Befana-Maranto organizzato dall'Unione Sportiva Rezzo. Sul mantervoso del comunale impeccabile, nonostante il freddo e la lieve nevicata della notte, i baby calciatori si sono affrontati sfidando il freddo e il vento tagliente fin dal mattino. Arezzo, Arezzo Calcio Femminile, Subiano, Tuscar, Virtus Archiano, Virtus Lignano, Indomita Quarata, San Giovannese, Santa Firmina, Petrarca e Nova Foiano hanno dato vita ad una bella manifestazione che ha sugellato di fatto anche il primo anno di attività della formazione esordienti del Cavallino. Per la prima volta nei suoi 93 anni di storia, infatti l'Arezzo ha tra le fila una squadra iscritta al campionato esordienti. Le gare iniziate al mattino sono proseguite fin nel tardo pomeriggio quando i riflettori del città di Arezzo hanno illuminato le fasi finali. A contendersi il terzo posto sono stati i baby calciatori di Arezzo e Santa Firmina con gli Amaranto che hanno superato i parietà giallo-verdi per 1-0. Nella finalissima, giocata in contemporanea, ecco la vittoria degli Azzurri della San Giovannese che ha vinto per 1-0 contro l'Indomita Quarata che ha preso parte al torneo riservato alla categoria esordienti 2005 con una squadra di 2006 che si è ben comportata. Non è mancato nemmeno il tifo sugli spalti dei genitori dei baby calciatori in campo. Grande soddisfazione in casa Arezzo tra i responsabili del settore giovanile Remo Banchetti e Andrea Tuzzi così come per la direttrice marketing Elisa Dallanoce e per il responsabile degli eventi Pietro Fazzuoli per la riuscita di una manifestazione che potrebbe fare da apripista nuovi eventi riservati al settore giovanile organizzati dal Cavallino.